Sindaci riuniti questa mattina nell'ospedale di Giarre per definire gli ultimi dettagli del presidio, che inizierà ufficialmente domani mattina e andrà avanti per una settimana. Un incontro a cui avrebbero dovuto partecipare anche i vertici dell'Asp, Giuseppe Giammanco e Franco Luca, che però non si sono presentati. I sindaci del distretto sociosanitario 17 riuniti questa mattina qui all'ospedale di Giarre. Domani partirà ufficialmente il presidio. Oggi era prevista una riunione con i vertici dell'Asp, ma a questa riunione non hanno partecipato. Non si sono presentati e purtroppo la comunicazione ci è arrivata solo stamattina con una telefonata. Io ritengo che sia ancora una volta una mancanza di sensibilità. Capisco le urgenze che vi sono in tutti gli uffici, in tutti gli enti, però sarebbe stato opportuno avvisarci prima. E questo è un tassellino di non riconoscenza rispetto a un territorio, rispetto ai problemi di un territorio che sono veramente complessi. Però dall'altra parte c'è l'unità dei sindaci, stiamo iniziando tutta una serie di azioni comune. Quindi mi auguro che a questa no risposta di oggi possa seguire una risposta compiuta dopo. Noi saremo qui per tutta la settimana, ma abbiamo già deciso che a fine di questo percorso, se non ci saranno risposte concrete, prenderemo ulteriore decisione, ma molto più grave di quella che abbiamo preso in questi giorni. Alla base dell'iniziativa di protesta dei sindaci, la richiesta di un'equa ripartizione di servizi e specialità tra Giarra e Acireale, i cui presidi sanitari costituiscono l'ospedale riunito. E il ripristino, data la chiusura del pronto soccorso giarrese, della possibilità di gestire nella struttura i casi urgenti al più alto livello di assistenza medica possibile. Abbiamo avuto l'onore di avere il presidente della regione siciliana accompagnato dal dottore Caudo in questo presidio ospedaliero, abbiamo avuto l'onore di sentire dalle bocche del presidente Crocetta e di Caudo che questo PTA è inadeguato. L'hanno detto loro, l'hanno letto ai vostri microfoni, hanno detto che da qualche parte c'è troppo, e qui è una vergogna, cito testualmente quello che hanno detto. È un ospedale da campo. Un ospedale da campo. Allora la politica regionale se prende atto del fatto che questo è un ospedale da campo ed è quello che i rappresentanti istituzionali, le associazioni, i cittadini di questo distretto sociosanitario dicono da anni, loro facciano delle azioni conseguenti, non si possono fermare a delle dichiarazioni fatte per spot e poi non proseguire con azioni concrete. Se il PTA non è adeguato, se questo è un ospedale da campo, ci diano un ospedale di base con annesso pronto soccorso, rispettino i parametri della legge Balduzzi e la smettano di giocare a nascondino. A turno i sindaci saranno presenti in ospedale secondo il seguente calendario. Martedì 8 Luigi Messina e Alfio Cosentino. Mercoledì 9 Marco Alosi e Denzo Caragliano. Giovedì 10 Ignazio Puglisi e Pippo Nicotra. Venerdì 11 Rosa Maria Vecchio e Salvo Barbagallo. Lunedì 14 Roberto Bonaccorsi e Giuseppe Intelisano. Buona notizia.